Lucast è una società tecnologica innovativa che ha realizzato un'applicazione web per la gestione di cataloghi denominati i lookbook. Abbiamo portato i lookbook da cartaceo, li abbiamo portati sulla piattaforma digitale e abbiamo dato a loro quella interazione con gli utenti B2B e B2C che la contraddistinguono come una delle applicazioni attualmente sul mercato indispensabile per tutte quelle aziende che hanno uno storytelling dei loro prodotti.